Non voglio più che lei veda mia figlia. Te l'ha detto che ci sposeremo? Ha bisogno d'aiuto, io ho bisogno di lui. Mi vedo tutti i soldi che gli dai. Cosa pensi di fare con quella gamba zompa? Andiamo, alzati! Adesso ti giuro che ti ammazzo, porta puta! Sono un amico di Rodolfo. Che cosa vuoi? 30.000 euro. Puoi essere come Rodolfo, sei solo un buffone. In prima visione, all death divides us. Amore criminale. Domenica alle 21.20. RAI4